Ed eccoci nel mondo del feltro stamperia, oltre ai classici accessori come palline, cordoni e al feltro decor con le nuove fantasie, in questa stagione troviamo i nuovi kit. All'interno di ogni kit troverai il materiale necessario per la realizzazione dell'oggetto, in questo caso questo meraviglioso pinguino, per cui troverai all'interno della lana cardata, del panno lenci e il soggetto in formato A5. Ti mancheranno solamente la nostra spazzola e il nostro punciatore. Un altro dei nostri kit è questa fantastica borsettina che potrai fare alla tua bimba, molto semplice e molto veloce. All'interno del kit troverai la lana, il feltro decor in formato A5 e la nostra fantastica fliselina. Questa ti servirà per non cucire la bambolina ma semplicemente per stirarla. Tra le novità del feltro decor troviamo queste fantasie maschili e questa fantasia di Halloween con cui tu potrai realizzare questi originali accessori. E con la nuova colla per il feltro potrai sbizzarrirti nella realizzazione di accessori senza ago e filo, come questi meravigliosi gioielli per la tua notte di Halloween. Ciao! 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 Grazie a tutti. Grazie a tutti.